Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video unboxing! Oggi unboxeremo questi due pacchi che io aspettavo da tantissimo tempo, non arrivavano mai e finalmente sono arrivati e oggi li unboxeremo insieme. Io so cosa c'è dentro, però vi lascio la sorpresa. Allora, iniziamo subito ad unboxare il primo pacco, questo qui lo unboxeremo dopo. Vediamo, vediamo, ok, forse alcuni di voi già avranno capito e non c'è più niente, le istruzioni non ci servono, addio! Vi spiego, questo qui si chiama Diamond Painting. Lo apriamo, ok, e lo fai interamente tu. Secondo me vengono fuori delle cose bellissime. Bellissimi, qui si deve srotolare il dipinto che poi vi faccio vedere cosa raffigura. Qui ci sono tutte le perline, i diamantini con tutti i colori e poi qua dentro ci sono le cosine fondamentali, ovvero la pennetta per applicare i diamantini, la cera che va messa dentro a questo buchino della pennetta e questo qui per mettere dentro i vari colori. Ora vi faccio vedere cosa raffigura. Vi ricorda qualcosa? È lo stregatto. Qui c'è dentro il kit. Allora, adesso apriamo. Questa qui apre i chiudi, quindi si possono rimettere dentro le cose. Allora, qua ci sono queste bustine di plastica sempre apri e chiudi. Poi, questo qui che penso sia un correttore per mettere dritte le perline. Allora, qua c'è la cera e questa qui è davvero tantissima, quindi mi basterà per questo disegno anche tanti altri. Poi questo qui che ha sempre la stessa funzionalità di questi, però ha questo foro, questo buchetto che adesso vi spiego a cosa serve. Prima vi devo far vedere un'altra cosa. Poi è una pinzettina per, se magari è sbagliato, per riprendere la perlina e metterla al posto giusto. Questo qui che ha sempre la stessa funzionalità di questi, solo che è più grande e più spesso. E qua dentro ci sono tutte queste file di piccoli contenitori e questo qua serve per mettere dentro tutti i colori delle perline. Ogni contenitore ha un colore di perlina e sopra magari ci puoi mettere delle etichette con scritto la lettera che poi corrisponde il colore. Queste qui sono le pennette, sono identiche. Alcune sono identiche a questa, questa qua che è quella dove puoi mettere una perlina per volta e qui puoi mettere una perlina per volta come qua, mentre qui puoi mettere tantissime perline alla volta. Metti questo sulla cera, prendi le perline e le puoi mettere tutte insieme per fare più veloce. Questo qui è quello più grande, questo qui invece sono da tre perline, mentre questo è grande come il primo e tutti sotto hanno quello da uno. mettiamo tutto qui, poi qua c'è la sacchetta, tutta azzurra così e dentro ci possiamo mettere le penne, comunque tutte le cose che sono necessarie. perfetto, poi qua ci sono le etichette per metterle appunto qua sopra, così almeno possiamo scrivere la letterina che nella leggenda corrisponde a un colore. poi urca, mi sono pure dimenticata questa qua, questa penna qui e poi delle altre pinzette. perfetto, questo qui era tutto il materiale, questo possiamo buttarlo a dios e adesso proveremo a fare qualche perline insieme, prima però dobbiamo organizzare tutto qua. ragazzi eccomi qua, sono tornata perché ho organizzato tutto come vedete e qua dove ci sono i contenitorini ho organizzato tutti i colori con il numero che c'è scritto qua sulla leggenda e ora volevo iniziare a provare con voi un piccolo pezzo del primo angolino a mettere un pochettino di perline, allora iniziamo a togliere la pellicola perché qua sotto è adesivo. prima di tutto prendiamo una vaschetta e una pennetta, adesso prendiamo questa che è da 1 e anche un pezzettino di cera. perfetto, allora qui vedo che inizia subito con il numero 2, il numero 2 è un bordeaux abbastanza scuro, prendiamo questi qui che sono divisi per 4 così attaccati, il numero 2 è questo qua, perfetto, mettiamo tutte le perline, le mettiamo qua dentro, agitiamo un pochettino così che le perline si mettono a faccia in giù, così riesco a prenderle meglio, poi qui nella cera c'è la pellicolina, quindi va tolta questa e anche dietro mi sa che c'è, sì, eccola qua, è morbida, questa qui c'era di argilla e quindi la mettiamo qua sopra, prendiamo la pennetta e la infiliamo facendo così, ho preso la cera e questa cera permette di prendere le perline, ne prendiamo una e l'appoggiamo ovviamente precisi ed ecco qui abbiamo messo la prima perlina nel nostro lavoro, ora proviamo a mettere anche altre, questa qua perfetto, ne ho messe già 4 del numero 2, ora volevo provare anche un'altra pennetta di quelle che ne mette più di una insieme proviamo questo qui da 3, prendiamo così, facciamo la stessa cosa e abbiamo preso 3 scacchetti di cera prendiamo 3 perline, perfetto, le ho presi tutte e 3 e ora proviamo a metterle qui perfetto, le ho messe tutte e 3 e funziona alla grande per velocità un po' il lavoro, è molto comodo vedete le ho messe queste 3 tutte insieme e poi ci sono anche quelli molto più grandi come questi e direi bellissimo, approvatissimo ragazzi ovviamente questo è un lavoro di tanta pazienza, ci vuole tantissimo tempo e noi insieme abbiamo fatto questo piccolo angolino e per oggi il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale col tasto iscriviti qua sotto e io ho provato totalmente questo diamond painting fatemi sapere se vi piace anche a voi con un commentino qui sotto e ci rivediamo nel prossimo video, ciao!